L'errore più comune che un'azienda come la tua può fare nel cercare di distinguersi, nel cercare di essere più visibile rispetto agli altri, è quello di imitare, magari inconsapevolmente, quello che fanno tutti gli altri. E cosa fanno tutti gli altri? Siamo immersi in una cultura di comunicazione che eredita tantissimo dai vecchi media, dalla televisione, dai giornali classici, dalle riviste, dalla radio in qualche maniera. Eppure ciò che dovremmo fare per distinguerci e essere più credibili e più visibili. Non solo è il posizionarsi in maniera precisa verso un pubblico e verso una necessità particolare, ma quella di non imitare il modo di comunicare che adottano tutti quanti. Che modo usano? Quello dei vecchi media è tutto fatto di noi e voi clienti. Ti proponiamo questo, vieni da noi, siamo i migliori, il nostro prodotto è imbattibile. Ma non è su questi punti classici del marketing che dobbiamo battere, ma su quelli che sono i benefici e i vantaggi che tu, mio cliente, potrai apprezzare nel momento che vieni a testare, provare e collaudare i miei prodotti e servizi.